Incendio ieri sera in località Sant'Elena, Torre del Greco. A fuoco le sterpaglie della solita area abbandonata in zona l'avione. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sul posto anche la protezione civile. Una problematica che si ripropone tutti gli anni a causa dell'incuria dei fondi agricoli presenti in zona. L'incendio è scoppiato intorno alle 23 di ieri sera e le fiamme sono arrivate a pochi metri dalle abitazioni presenti nell'area. I proprietari dei fondi agricoli sono tenuti per legge, dichiara l'ex assessore Giuseppe Speranza, nonché esponente del locale comitato di quartiere, a tenere puliti i suddetti fondi. Tra le altre cose, prosegue Speranza, si tratta anche di una zona impraticabile e più esposti sono i cittadini che abitano in località Sant'Elena. Grazie a tutti.